Giù i muri abusivi nelle piazze di spaccio degli scissionisti e l'ennesima operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Giuliano guidati dal capitano Antonio Delise nei quartieri della droga ritenuti sotto il controllo criminale del clan amato pagano. Il blitz è scattato stamani nel rione 219 tra via Arno e via Danubio. I militari dell'arma con l'ausilio di alcuni operai e della polizia municipale hanno abbattuto tre muri che qualcuno aveva eretto di recente, probabilmente per facilitarne le operazioni di spaccio e di vendita di droga. I porticati di accesso agli stabili erano stati completamente murati e molti residenti erano costretti ad un lungo giro per entrare nell'edificio. Nessuna denuncia era stata però sporta. L'operazione di abbattimento compiuta questa mattina dai carabinieri serve a lanciare un segnale alla criminalità organizzata del posto. Lo Stato c'è, nessuno può fare ciò che vuole. Grazie a tutti.